ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi siamo a piella sono venuto qua perché c'è un moto incontro sono venuto qua visto che fanno una bella una bella un bel evento una bella benedizione del moto e dei moto ciclisti visto che per quello che è successo l'anno scorso nel viaggio a capo nord diciamo che una bella benedizione non fa mai male quindi ora andiamo al punto di incontro si ragazzi si sale verso europa con il gruppo qua l'amore 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Costruita, mi diceva Vincenzo, dal signor Zegna appunto, finanziata dal signor Zegna, è proprio costruita. Per permettere alla gente di Biella di andare a sciare sui monti biellesi. Adesso scendiamo da Europa e poi ci vediamo dopo. Eccoci, mi sa che ci siamo ragazzi sulla panoramica Zegna. E adesso vi faccio partire la musica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.